Incidente mortale a Ponte Gagnano. Un ragazzo 24enne residente a Ponte Gagnano è deceduto dopo un sinistro stradale verso l'una della scorsa notte. Il ragazzo che purtroppo ha perso la vita era in sella ad uno scooter con un coetaneo finendo fuoristrada. Il motociclista è deceduto in ospedale mentre l'altro ragazzo ha riportato ferite guaribili in 40 giorni. L'incidente è accaduto in via Vicenzia. Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Battipaglia agli ordini del capitano Graziano Maddalena e il personale del 118 che ha soccorso di due feriti che sono stati trasportati in ospedale. E poi il 24enne è deceduto mentre l'altro giovane è ricoverato in ospedale per aver riportato una ferita all'occhio sinistro. I carabinieri hanno effettuato i rilievi per stabilire la dinamica del sinistro stradale. Il motociclista avrebbe perso il controllo delle scooter e entrambi i ragazzi sono finiti su un solco. I militari della compagnia dei carabinieri Battipaglia hanno sequestrato lo scooter e stanno verificando se in via Vicenzia, dove è accaduto il sinistro stradale, ci sono telecamere che abbiano ripreso le fasi dell'incidente.